Dunque questa è la notizia importante per chi è appassionato, c'è anche il bando per chi vuole partecipare, quindi la fiera agricola si fa come avete sentito all'ultimo weekend e sarà un piacere per tutti coloro che ormai sono abituati ad andare a vedere, a assaggiare, a degustare gli animaletti, insomma per quanto riguarda i concorsi ci sono quasi tutti, lo avete sentito, ma non sarà una fiera come quella degli anni passati, un po' ridotta ma senza dubbio alla stessa altezza. Parliamo un attimo di politica perché qua il discorso, il problema del commissario Belcuore che non riesce o che non vuole o che gli hanno impedito di fare il consiglio camerale, chiaramente dipende dalla politica in genere. Allora ci sono delle fibrillazioni, quest'estate è servita forse a chiarire e a schiarire alcune cose, ci sono i grandi dubbi, ma per esempio l'onorevole Abbate è ancora così scitto con Cuffaro oppure Cuffaro in questi momenti mi pare che ce l'abbia un po' con Abbate, perché Abbate ha sempre chiesto che vuole fare l'assessore, compagnia bella e non gliel'hanno fatto fare. Poi ci sono delle fibrillazioni, per esempio c'è un comunicato stampa che arriva da quelli dell'MPA che lamentano il fatto che non ci sono delle progettazioni per fare i lavori dell'Arze, quindi l'MPA ha chiesto, con un comunicato stampa, ma chiaramente a Schifani di fare una riunione di maggioranza prima di andare ai lavori d'aula per capire che cosa si deve fare. Ora in verità voi sapete che il buon Schifani non è amante di partecipare all'assemblea, sì, gli incontri lui li fa, però lui si sente un po' forte della sua maggioranza, ma l'MPA è un partito molto forte e soprattutto vi devo dire che è un partito che è capace di rovenare, cioè di far cadere qualunque cosa. Ora bisogna capire cosa vuole l'MPA, perché voi sapete che la politica è fatta di ricatti equilibrati, qualcuno poi dice di equilibri ricattabili, insomma bisogna vedere se tutto questo movimento viene fuori dall'MPA perché non ha avuto quello che in verità vorrebbe avere, oppure c'è davvero una voglia incredibile di migliorare nel settore della politica del nostro territorio. Noi però possiamo parlare della politica del nostro comune, perché poi di venerdì non possiamo fare altro. è passata l'estate e torna la rubrica. Vediamo.